A 11 giorni dallo straziante 14 ottobre in cui il 15enne senigalliese Leonardo Calcina si è tolto la vita sparandosi con una pistola sottratta al padre, agente di polizia municipale, i genitori di Leo, con enorme sforzo d'animo, hanno tenuto una conferenza stampa all'auditorio in San Rocco, assieme all'avvocato peserese Pia Perricci, legale, amica di famiglia, che sta seguendo le indagini relative ad una tragedia annodata al malessere insostenibile derivato da episodi di bullismo. Conferenza motivata a delineare lo scenario in cui si è ritrovata la famiglia Calcina in poco più di un mese di scuola, le vessazioni esternate prima ai genitori e poi ad una scuola che a detta degli stessi ha avuto una condotta silente e omertosa fino all'atteggiamento sprezzante e impunito dei cosiddetti bulli, due ragazzi e una ragazza denunciati dalla famiglia. Un percorso che appena gli inizia e che ha coinvolto pure il ministro Valditara, con il quale l'avvocato Perricci ha calendarizzato per il 6 novembre un appuntamento per lanciare una proposta di legge che porterà il nome di Leonardo per scongiurare il ripetersi di simili orrori. Per ora procediamo con l'istigazione del suicidio, lo stalking e tutti i vari reati, minacce, molestie e via dicendo. La proposta di legge che noi vorremmo fare, vorremmo portare e quella per istituire all'interno della scuola un obbligo scolastico di studio, di materie che ci rendano meno dipendenti dai pc e dall'altra parte che preveda anche il reato di bullismo. I genitori sono convinti che ci sia ancora qualcosa di nascosto che vada oltre il bullismo. Ci fa pensare che quello che è successo c'è dentro all'interno del cellulare di Leonardo, sono sicura. Il telefono di Leo è un iPhone ed è difficile aprirlo e ci vuole tanto tanto tempo. Non è una lotta per Leo, è una lotta per assicurare che non succedano più questi fatti. Il fatto che un ragazzo di quelli che noi abbiamo identificato il giorno dopo abbia fatto a botte con un altro ragazzo e che ieri e ieri, avanti ieri, ha postato un video sprezzante dove rassicura ai suoi genitori che al massimo in caso di ristalo vanno a prendere il costura. Significa che questo ragazzo ha capito il disvalore di quello che ha fatto. Non ha compreso assolutamente nulla di ciò che ha fatto. Si vogliono dunque controllare i cellulari dei ragazzi segnalati nelle denunce. Lunedì l'Avvocato Perricci presenterà apposita istanza alla procura dei minori. Io ho chiesto ai carabinieri di porli sotto sequestro. Dipende dalla procura. Finora non abbiamo avuto notizie di questo genere. Il papà Francesco invita studenti e famiglie ad uscire dal muro di silenzio in cui troppi si sono trincerati. Vorrei che anche i genitori si mettessero una mano sul cuore perché Leonardo era un bambino, un ragazzo, buono, è un ragazzo che tutti vorrebbero come nipote, come figlio. Devono capire che essere educati non vuol dire essere deboli. Vogliamo che dicano quello che è successo perché io rifiuto di pensare che quello che è successo è successo per dei gridolini, delle vocine. Noi siamo pressoché convinti che c'è stato dell'altro e che ancora non lo sappiamo cos'è successo. Questo si può capire solo ed esclusivamente se i ragazzi, tramite i loro genitori, tramite i professori, che noi non demonizziamo in toto assolutamente, se i ragazzi parlano perché tutti sappiamo, tutti siamo stati a scuola, che tutti sanno. Vorremmo ovviamente anche che un altro atteggiamento da parte della scuola che finora non c'è stato, è stato un atteggiamento come minimo omissivo. I docenti che sono lì dentro, che hanno fatto le lezioni a Leonardo dall'11 di settembre fino a che se n'è andato e non hanno fatto nulla. Quindi non sanno fare il loro mestiere, dovrebbero andare a fare qualcos'altro. La scuola ha omesso, ha omesso comunicazioni, ha omesso collaborazione, ha omesso sentimenti, umanità. La scuola non ha fatto telefonate, non ha fatto condoglianze, non è venuta al funerale di Leo. C'era tutta Senigallia ed intorni al funerale di Leo. Tutti. La scuola non l'ha fatto.